Intanto il mister troppa tutti gli ultimi dettami della partita. Abbiamo uno dei reatti stradieri della Landromat. Mi sembra che la partita sia stata bella tirata, però la vittoria arriva. Una partita tosta, difficile, però bisognava vincere e siamo riusciti a vincere. Era importantissimo uscire oggi con tre punti. Sono contento che siamo usciti con tre punti. Come ti trovi da Landromat? Mi trovo benissimo. Qua è veramente una famiglia. Tutti mi hanno abbracciato. Mi fa sentire in casa. Sono troppo contento qui. Al Barra come l'hai vista come squadra? Una bella squadra. Io conosco un amico mio che ha giocato insieme all'inizio delle stagioni. Sono una squadra organizzata. Questa è una brava squadra. Mi è piaciuta. Tanto abbiamo soffitto per vincere oggi. Parliamo di Mr. Crocco. Come si comporta? Bene, bene, bene. Lui conosce tanto e tutto che chiedi a noi dobbiamo fare facendo. La cadra di Poca Lomba. Grazie. Ciao.